Bella raga, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi after patch per andare in otr e fare lo scambio veicoli, il con to com ragazzi o lo scambio con la base Full console quindi lo possiamo fare su ps5, ps4, xbox one, xbox series Allora requisito raga dobbiamo avere un amico che ci dà una mano e dobbiamo possedere l'attico di lusso A questo punto cosa importantissima e anche stranissima raga dobbiamo andare su impostazioni Una volta che siamo su impostazioni andiamo sul schermo e dobbiamo mettere fedeltà grafica ragazzi per la next gen Quindi ps5 e xbox series, se no il glitch non funziona A questo punto possiamo andarcene all'interno del nostro attico di lusso Una volta che siamo arrivati all'interno dell'attico di lusso ci mettiamo qua dal telefono raga Per chi gioca da ps5 se vuole può usare anawak ma io lo sconsiglio Se no ragazzi vi fate invitare da un vostro amico che sta in lobby con voi nel lavoro da titano Per chi gioca da xbox series e invece per chi gioca da ps5 semplicemente ci partecipa E quando siamo nella prima allerta ragazzi gli diciamo di quittare l'attività A questo punto spammiamo frecce a destra e a e accettiamo tutte le allerte Appena raga spawniamo di nuovo visibili dentro l'attico di lusso teniamo premuto touchpad O il menu interazione per aprire il menu in alto a sinistra e tenete premuto la freccetta bassa per scorrere il menu A questo punto appena si buggeranno i due menu cliccate una volta la freccia in alto e come vedete si staccherà dal telefono A questo punto andiamo dall'ascensore e dovremmo fare 4-5 volte ragazzi esci dal casino come vedete Su casino non succederà niente quando l'abbiamo fatto 4-5 volte allora potremmo uscire dall'attico di lusso ragazzi A questo punto se volete fare il com to com vi dovete richiedere il com ragazzi E il veicolo personale e farci salire sopra il vostro amico Se invece volete andare a fare lo scambio della base andate direttamente alla base e fate poi lo scambio una volta che vi siete finiti di bugare Quindi adesso per completare il bug basta rientrare dentro bisogna assicurarsi di avere questo menu bugato in alto a sinistra Clicchiamo su casino ragazzi e una volta che siamo su casino e siamo entrati all'interno Andiamo dalla reception ragazzi e facciamo esci con il frogger che sarebbe il veivolo E una volta che usciremo con il veivolo ragazzi e sbadabam finalmente saremmo in otr Ragazzi questo qua è il metodo funzionante adesso se dovessero patcharlo di nuovo cercherò di portarvi subito la feature patch Bella regà alla prossima sbadabam Ciao Ciao Ciao